Se il Movimento gradisce un'opposizione barricadiera, ne prenderemo atto. Certo, dopo un anno privo di concreti risultati amministrativi, non continueremo a giustificare ulteriormente l'inerzia con l'inesperienza di chi amministra, ma saremo lo stesso pronti a dialogare con altre componenti della maggioranza che siano pronti a cogliere proposte e a confrontarsi, sempre nel supremo interesse di Sulmona. Arriva la risposta dei fratelli d'Italia di Sulmona all'attacco bipartisan, sferrato ieri da Movimento 5 Stelle e dalla consigliera regionale Marianna Scoccia. Il partito, uscito vincitore alle urne delle elezioni politiche, apre al dialogo con la maggioranza e attende dal sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero la risposta sulla richiesta d'incontro con gli assessori, essendo questi i suoi collaboratori e non certamente eletti da alcuno, ricordano i meloniani. Fratelli d'Italia di Sulmona rimarca il risultato ottenuto dai 5 Stelle, conseguente crollo rispetto alle politiche del 2018 e passano da 5.000 voti a circa 2.000, più che dimenzando il suo consenso a dispetto di Fratelli d'Italia, che dai circa 500 voti del 2018 ha raggiunto gli oltre 3.000, se stuplicandolo falsamente, afferma il Movimento che nell'amministrazione cittadina Fratelli d'Italia non ha mai manifestato interesse per la città, dimenticando che allorquando chiamata a dare il suo contributo nelle rare riunioni delle commissioni consigliarie convocate le presidenti, tutti della maggioranza, ha sempre dato le proprie indicazioni, proposte, suggerimenti e ha dovuto in qualche occasione anche garantire il numero legale non assicurato dalla maggioranza per le proprie spaccature interne. Poi il passaggio sulla scoccia che ha infastidito e non poco i meloniani sulmonisi. La scoccia si è messa a polemizzare sull'operato di un gruppo consigliare di Sulmona, dimenticando che lei nulla a che fare con l'amministrazione cittadina. Una goffa, invasione di campo fatta da chi, facendosi eleggere nella coalizione di centrodestra e regione, l'ha dopo poco abbandonata per svolgere un ruolo di opposizione sterile, appiattita sulle posizioni del centrodestra, quando rimanendo al suo posto avrebbe potuto all'interno della maggioranza operare per conseguire risultati per la nostra città. Ma chi fa scelte non per le idee, ma per il proprio tornaconto elettorale, queste differenze non sa considerarle.